30 dicembre 2018, stiamo andando in spiaggia per fare il bagno tradizionale dell'ultima domenica dell'anno. Colgo l'occasione intanto per farvi ovviamente gli auguri sia per le festività che comunque ancora sono in corso che per ovviamente il nuovo anno, vi auguro ragazzi che sia un anno pieno di risultati, di grandi traguardi e io onestamente sto concludendo un anno incredibile, incredibile è l'unica parola che possa descriverlo perché per me è importante anche fare questo bagno, questo stupidissimo bagno del 30 dicembre praticamente da sempre, fin da quando ero piccolo ho sempre odiato proprio l'inverno come stagione, come momento dell'anno perché mi impigrivo, il freddo mi abbassava, mi ha sempre abbassato la produttività, sempre e questo sia da piccolo ma soprattutto anche da grande, tutti i record personali di tutte le nature diciamo li ho sempre fatti tra la primavera e l'estate, il periodo d'ora è sempre stato quello e quindi per me essermi trasferito in un posto come questo ha permesso di trasformare tutto quello che poi in realtà era tutto un sogno da ragazzino, un film da ragazzino in qualcosa di vero perché adesso vi faccio vedere come praticamente il 30 dicembre siamo tutti in spiaggia a fare un bagno pazzesco, farà freddo perché l'altro è molto lato siamo in spiaggia senza un sacco di gente, mi sono dimenticato il cappello natalissimo mannaggia che preciso è il cappello adesso vi faccio vedere un sacco di spiaggia lunghissima e adesso devo aspettare Machia, Giulia e forse anche il Girolamo e tra un po' ci buttiamo tutti in acqua ancora una mezzogiorno e mezza l'acqua sicuramente è freddissima, non fa freddo saranno quasi 30 gradi ma l'acqua sarà congelata perché siamo sull'oceano ragazzi con il freddo però vuole mettere il gusto di fare il bagno il 30 di dicembre amicata eccoli ecco Giulia dove stai? aspetta che forà Girolamo e Mattia eccolo pronto carico? carichissimo attenzione che c'è un'affermazione seria da parte di Mattia vai Mattia vai dichiaro che oggi in data 30 dicembre 2018 in occasione dell'ultimo bagno sulla Scanteras io andrò con le mie forze alla barba laggiù fino laggiù arrivi porca miseria la flora e la fauna a narizia Dario sacchetta strategica di Marketers ciao Dario ciao Luca Luca ciao a tutti ciao 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 30 dicembre 2018 bagno bagno è l'ultimo bagno dell'anno top ragazzi spettacolo spettacolo fredda ma al punto giusto come si dice siamo arrivati dall'altra parte andata raccontatevi un po' direi io dico che come si salienti all'inizio è stata critica ma dopo a metà è andata liscia io c'avevo stacco proprio c'avevo un braccio solo l'altro mi si era addormentato è una bella passeggiata in salita dai c'è ancora gente che arriva it's now now Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che figata ragazzi, troppo bello. Il bagno 30 di dicembre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.